Essere Animali pubblica un nuovo report destinato alle istituzioni locali e regionali. Questo report racconta quelle che sono le buone pratiche da mettere in atto anche a livello locale quando si parla di cibo, quindi alimentazione e impatto della nostra alimentazione. Nella Food Policy infatti è possibile fare tantissimo e questo report mostra quelli che sono i casi da seguire sia a livello internazionale sia a livello locale italiano, ma anche da indicazioni per quei comuni e quelle regioni che ancora non hanno intrapreso un percorso sulla sostenibilità alimentare delle proprie zone. Noi come Essere Animali siamo impegnati da diverso tempo nel campo della Food Policy col progetto Meno per Più che si rivolge anche alle università e alle mense aziendali, ma questa volta abbiamo deciso di fare un passo in più, un passo verso le istituzioni che possono fare tanto per ridurre l'impatto della nostra alimentazione e promuovere modelli più vegetali, sostenibili, in linea con quelli che sono anche gli obiettivi da raggiungere nei prossimi anni.